Su Ascan è il risultato di una gestazione molto lunga, ho scelto di crederci in primis per il team, ogni azienda è fatta da persone, le aziende creano prodotti e soluzioni, è verissimo, ma ha la base delle sue persone, quindi da lavorare con Sara e con lo staff è fantastico. È stata una lunga gestazione perché abbiamo fatto un'attentissima analisi di mercato, abbiamo cercato di capire, intuire e prevedere, e non mi sembra che ci siamo sbagliati, con l'evoluzione del G, ci sarebbe stata nel mondo cloud applicato le verifiche di security e mi sento di dire anche, prevedere un po' quello che sarebbe successo a livello europeo sul Confiance e anche qua non mi sembra che ci siamo sbagliati. Ecco i motivi per cui ho scelto di stare in squadra e ad oggi il bebé e il bambino sta iniziando a crescere, ci fa un piacere.